La notizia dei 31 contagi al carcere di Pagliarelli per il coronavirus non ci coglie affatto di sorpresa. Ormai noi da mesi abbiamo rappresentato il problema che c'è nelle carceri italiane, nelle carceri siciliane e nelle carceri palermitane. Il contagio all'interno di queste strutture diventa un problema che deve riguardare tutti noi. In carcere non si possono mantenere le distanze previste dal DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il carcere non è un luogo sicuro. Il carcere diventa una bomba innescata nel momento in cui entra il Covid e lo stiamo vedendo, perché 31 casi sono quelli accertati e potrebbe crearsi un focolaio veramente enorme. E questa è purtroppo la risposta a quanti hanno sottovalutato il problema, a quanti hanno detto che in fondo in fondo l'isolamento del carcere preservava i detenuti dal contagio del coronavirus. Noi abbiamo chiesto per alleggerire l'affollamento dentro le carceri che venissero presi dei provvedimenti di alleggerimento della popolazione carceraria portando agli arresti domiciliari oppure con il braccialetto fuori dal carcere le persone che avevano da scontare pochi mesi oppure gli anziani e gli ammalati. Quindi auspichiamo che veramente questo campanello di allarme faccia un po' riflettere chi deve riflettere.